Le attività del centro storico e del centro cittadino come Piazza Muzzi potranno abbassare le serrande nei weekend alle ore 2, lasciando ferma la mezzanotte per gli altri giorni della settimana. E questo quanto deciso dall'aggiunta Masci sui nuovi orari della Movida in vigore a Pescara fino al 24 luglio. Questa nuova ordinanza però non è andata giù alla CNA Pescara che ritiene del tutto insoddisfacenti le nuove scelte e chiede al sindaco di trovare una conciliazione nel nome di una reciproca tolleranza. Tutte le associazioni di categoria nei vari confronti che si sono succeduti hanno espresso delle posizioni. Naturalmente il comune di Pescara ha scelto un'altra impostazione puntando esclusivamente sugli orari di chiusura così come sono stati stabiliti dall'ultima ordinanza. Noi riteniamo che il problema va visto nella sua complessità non è solo una questione di orari di chiusura stabiliti ma anche nella gestione degli spazi e delle aree pubbliche intorno a queste attività. Noi avevamo chiesto un allungamento intanto della possibilità di aprire sia durante i giorni infrasettimanali e sia nei weekend. Naturalmente questa cosa non è andata e quindi l'ordinanza che ha emesso l'amministrazione comunale scontenta sia i residenti e sia gli esercenti. Noi riteniamo ancora che con questa situazione anche con le notizie buone che ci sono nel versante della gestione della pandemia si poteva fare qualcosa in più, si poteva dare la possibilità agli esercenti di poter lavorare di più perché veramente ne hanno bisogno visto quello che è accaduto nell'ultimo anno. Vanno prese delle misure specifiche. Se c'è una necessità di valutare anche l'impatto acustico che queste attività hanno nelle ore più prettamente notturne va valutata questa possibilità con delle valutazioni anche di natura tecnica per cercare di trovare la condivisione e non semplicemente la delimitazione di orari che poi come abbiamo visto non hanno soddisfatto né i residenti che vogliono dormire la notte e né gli esercenti che vogliono esercitare liberamente la propria attività nel pieno rispetto della normativa.